492 casi, 470 a Bitonto, 5 a Mariotto e 17 a Palombaio. Questi i nuovi dati sulla situazione Covid in città, comunicati dal sindaco Michele Abaticchio sabato scorso. Numeri superiori rispetto a una settimana fa, ma si segnala un incoraggiante meno 44 rispetto al giorno precedente. Ovviamente sono piccoli segnali di speranza, perché in generale la situazione regionale e nazionale resta preoccupante è stato il commento del nostro primo cittadino. Sui dati però vige l'incertezza. Dalla Prefettura, a causa delle difficoltà di comunicazione, vi sono spesso disalineamenti fra il numero di contagiati, guariti e deceduti. In questo nuovo aggiornamento, fra i casi Bitontini, sono conteggiate anche le 24 positività riscontrate ancora a Villa Giovanni XXIII. Nella casa di riposo si registrano purtroppo già 11 decessi fra gli ospiti. 8 avvenuti in ospedale a seguito di ricovero e 3 all'interno della struttura. Nella settimana, inoltre, sono state temporaneamente sospese le lezioni in alcune scuole dell'infanzia per effettuare le opportune sanificazioni. Fra queste anche l'asilo Borgo San Francesco, in cui sono risultati positivi alcuni maestri e piccoli alunni. L'ASL ha quindi disposto la chiusura del plesso e imposto l'isolamento fiduciario per tutti i bambini frequentanti e per il personale docente e non docente della scuola.